E' molto difficile per me parlarne, perciò ti prego, lasciami finire, fammi andare fino alle fine, non mi interrompere. E come posso spiegarti, ecco, amo le tue mani, ti assicuro che non so che cosa mi succede, qualche mese è che io sento una cosa strana quando ti vedo, ecco, eppure non sono gay, non sono lesbica, è solo con te, ecco, e voglio dire, è solo con te che mi succede questa cosa. E quindi sto cercando di capire, è vero che io ti ho sempre ammirata, amo la tua personalità, amo il modo in cui ti batti per le cose, sai, quando affronti i problemi e poi anche i tuoi difetti, io li amo. E poi sei sempre stata la mia amica, la mia confidente, la mia malvola di sfogo, cioè, e all'improvviso adoro quando ci abbracciamo, quando mi stringi, quando guardiamo le partite, sai che saltiamo e... io non ci sto capendo più niente, ero troppo giovane quando ho conosciuto Luca e adesso mi soffoco, invece quando sto con te sto bene, mi sento rilassata e non so se è la tua presenza che mi rassicura, però io credo, insomma, credo di essermi innamorata di te. Ti assicuro che non ho nessuna intenzione di portarti a letto o di baciarti, no. Cioè, magari succederà, non so.